che cos'è? è spaziale questo è il K28, il nuovo modello monotipo della Jeffeyot lo presenteremo le prossime settimane qua alla primavera di Capitana potrà regattare ovviamente sia il monotipo, questa è la numero 3 che è in regate d'altura e in ms la barca è tutta costruita in epossidico è albero in carbonio, ha chiglia basculante canard, è armata con gennaccheri in testa d'albero da 90 metri quadri e da 80 metri quadri quello ridotto si porta in 5 l'imbarcazione tutte le manovre sono riportate in pozzetto il prezzo dell'imbarcazione si aggira intorno ai 90.000 euro la barca è stata costruita a Bergamo dalla Jeffeyot sul progetto della MP Design Luca Posterla la barca fa una prima regata che sarà il primaverile qua a Mariana di Capitana dove i prossimi giorni andremo ad armarla intanto la testiamo in questa manifestazione è previsto un calendario di varie regate sia ad altura che a bastone che pubblicheremo i prossimi giorni e credo se sali in Sardinia è anche il miglior metodo di comunicazione per divulgare l'attività che non copre grazie